Ciao a tutti amici di Tom's Hardware, ancora una volta non abbiamo un prodotto informatico ma un prodotto per la casa, per la smart home. Questo è il Powerboat di Samsung, un aspirapolvere intelligente e robotico che segue sulla scia dei Roomba di iRobot e compagnia bella. Tra l'altro non è il primo prodotto di Samsung ma è un'evoluzione di un prodotto precedente. Come vedete diversamente da altri prodotti sul mercato, ha una forma squadrata nel lato anteriore, in questa maniera la spazzola può raccogliere praticamente la spazzatura, la polvere e quant'altro per bene anche negli angoli, mentre i robot precedenti o anche di altre marche con la forma rotonda non riuscivano a fare questa operazione. Inoltre ha dei sensori visivi, quindi per riconoscere gli ostacoli basta che ci arriva vicino, fino a un centimetro e mezzo, due centimetri, mentre precedentemente doveva andarci contro fisicamente per poi cambiare direzione e prendere un'altra strada. Ha una base di ricarica e si può usare in due modalità. La Power Mode che ha la massima potenza di aspirazione, è più rumorosa e dura 60 minuti massimo. Alla fine della carica lui prende e torna a destinazione, oppure ha una modalità silenziosa che dura 100 minuti. Inoltre se lo vogliamo fare andare in automatico fa tutto da solo. Alternativamente c'è questo telecomando con il quale si può pilotare l'aspirapolvere con letteralmente una specie di joypad a cursore, altrimenti possiamo puntare una specie di cursore laser e lui va direttamente dove vogliamo noi. Guardate, è un giocattolo praticamente. Quindi se abbiamo buttato della rumenta per terra, lui capisce esattamente dove sta e la va a prendere. Il prodotto costerà un migliaio d'euro, quindi è esattamente in linea con i prezzi purtroppo di questi accessori, però sembrerebbe in grado veramente di cambiarci la vita, quindi chissà, più ce ne sono meglio è, più diventano evoluti, meglio è. Vi ricordo che il serbatoio si può sostituire, il prodotto è completamente lavabile e nient'altro, vi consigliamo di andare a vedere in un superstore dedicato e provarlo da voi. Un saluto a tutti da Tonsardo e ci vediamo con altre applicazioni di Smart House.